La mozione abbia oggetto appunto l'erogazione dei servizi uniti nei mesi di luglio, ma c'è un'idea conoscenza di questa circolare del 9 maggio che riguarda appunto l'erogazione dei servizi in cui diversamente da tutti gli anni passati veniva specificato che il tale servizio sarebbe stato garantito prioritariamente attraverso le strutture educative private accreditate e condizionate e che qualora i costi disponibili in tale strutture non fossero stati insufficienti a coprire le richieste da parte degli utenti dei uniti pubblici si sarebbe valutato, quindi sottolineiamo le parole, presa quindi in considerazione valutata la possibilità dell'apertura di uno o più asili pubblici. Questo è esattamente come sapete bene il contrario di quello che è avvenuto fino ad oggi, perché a Pumonte i nostri uffici decidevano, non è così di chiudere alcuni uffici pubblici, ma semplicemente per il fatto che l'utenza nel meso di luglio è ridotta rispetto agli altri pensi, per cui anche in ottica di risparmio e di ottimizzazione delle risorse si decideva di lasciarli aperti in modo inferiore rispetto a quelli che funzionati durante l'anno e questo ovviamente è una scelta giusta da parte dell'amministrazione, non si era mai presa in considerazione la possibilità invece di coprire questo bisogno di tutti i cittadini, delle famiglie, dei pimpi che comunque a luglio continuano a lavorare servendosi dei miti convenzionati o privati. Quindi a dirà del fatto che c'è risultata la lettura di questa circolare in assoluta unità che si è già passato, teniamo anche a sottolineare che questa circolare è arrivata il 9 maggio dell'ufficio, creando anche all'interno dell'organizzazione degli uffici che gestiscono i miti in grande sconquasso, se in passaggio il termine, perché sapete bene che poi è il periodo in cui gli uffici gestiscono le nuove istruzioni, quindi sono completamente impegnati le risorse già insidue degli uffici nel gestire tutte le domande, nel preparare le laboratorie, eccetera. per cui hanno dovuto anche loro soffrire a questa richiesta proveniente dal dipartimento nella circolare, quindi veniva anche specificata tutta una serie di tempisti che si aveva letta la mozione, sono ricordate qui dentro, nelle quali appunto si chiedeva di svolgere ai vari attori coinvolti in questa organizzazione di ottemperare determinati obbligi, primo tra tutti i genitori di coloro che frequentano i miti privati e convenzionati, che hanno dovuto in tempi brevissimi decidere se iscrivere o meno i loro figli nel mese di luglio, quindi per poter poi permettere al municipio di stabilire attraverso una tabella quali fossero i posti libri e disponibili nelle stesse strutture da poter poi colmare con i provenienti dei miti pubblici, quindi il primo disagio per coloro che durante l'anno frequentano il mito privato che di punto in bianco ha potuto decidere se lui avrà bisogno o meno di questo servizio, decidere se usufruirne per l'intero mese per i primi 15 giorni o per i secondi 15 giorni. Successivamente il municipio sulla base di questa tabella, quindi ha elaborato questa tabella per cui abbiamo visto che in totale si libereranno nel nostro municipio circa 130-140 posti tra i miti privati e convenzionati. Ora parlando degli uffici, mi hanno riferito che fino all'anno scorso coloro che fanno richiesta del mese di luglio, mi riferisco sempre ai utenti pubblici, sono circa il 50%, per cui se i nostri miti più o meno ricevono un'utenza di 600 binghi, a luglio sono frequentati da circa 300, anche 350 binghi, per cui sicuramente questi posti disponibili in queste strutture non potreranno le richieste. Ma voglio sottolineare anche altri aspetti, a parte i servizi, il problema è che con questa circolare non si è chiarito poi come va a concludere sui liti. Mi spiego, siccome nella circolare è previsto che per poter accedere a questi niti ha priorità l'ordine di arrivo per quell'altro giorno, a quattro mattina, credo bene che tutti i genitori si siano precipitati nell'ufficio di Santa Maria della Piedà per garantirsi un posto nel nido, seppur privato o convenzionato, quindi diverso da nido di appartenenza, per poter comunque mandare il loro figlio al nido del mese di luglio. Già questo è un criterio assurdo, dire chi prima arriva bene alloggia e chi fa tardi magari non sloggia, non è un buon criterio. Inoltre va detto che in questo mondo non viene sicuramente garantita nessuna utilità di tattica per i binghi. Noi sappiamo l'altra volta il Presidente, quando abbiamo presentato l'altra mozione sulle scuole, poneva fissamente l'accento sul fatto che nelle scuole bisogna tenere presenti prima di tutto le esigenze dei binghi, al di là dei lavoratori, al di là dei genitori, ma innanzitutto dei binghi. Allora in questa circostanza se vogliamo tenere presente le esigenze dei binghi, quali sono? I binghi frequentano per tutto l'anno una scuola, una struttura, sono abituati alle loro educatrici, a vivere in un determinato ambiente. Cambiando di situazione, per noi è un disagio, sappiamo bene quanto costa inserire un bimbo in una nuova struttura. L'inserimento è tanto vero che poi sono arrivati all'impattimento anche delle bimbi guida per indirizzare, diciamo, c'è scritto proprio le bimbi guida per l'accoglienza dei bimbi nei servizi convenzionati. Per cui al luglio, per pochissimi giorni, 15 giorni, 30 giorni, gli educatori dovranno mettere in atto un nuovo processo per garantire a questi bimbi, fatto comunque di inserirsi in un ambiente nuovo in maniera serena e tranquilla. Sì, qualcuno mi potrà orientare che anche con la chiusura dei miti pubblici alcuni di questi bimbi si trovano a cambiare struttura e a cambiare insegnanti. Questo è vero fino a un certo punto, perché noi sappiamo benissimo che i miti del nostro municipio stesso lavorano dei precari che girano tra i vari miti. Per cui durante l'anno, comunque magari quella faccia l'avranno vista una volta, o per alcuni periodi, o comunque ci saranno stati dei bimbi che hanno frequentato durante l'anno proprio il nido che si decide di lasciare aperto. Per cui la scelta del nido pubblico avrebbe causato sicuramente dei disagi ad alcuni, ma non a tutti come prevede questa circolare. Per concludere vorrei anche dire che ad oggi sono arrivate le richieste da parte dei genitori, perché giustamente se questa è la tempistica data il genitore decide di mettersi in sicurezza e fa quello che l'amministrazione e le istituzioni chiedono. Ieri circa 100 genitori sono andati a compilare questa domanda e io credo ci siamo tornati parecchio in difficoltà, perché gli è stato anche detto, gli è ufficiosa, quindi nessuno gli ha dato una sicurezza che probabilmente siccome di questi individui privati e convenzionati non coprono tutto l'intero territorio del municipio, ma ci sono delle zone completamente scoperte e in particolare la zona di Palmarola-Ottavia, credo anche la zona di Prima Valle, si è detto per tranquillizzare questi genitori che in queste due zone si sarebbe comunque pensato ad aprire vini pubblici. Però io ho chiesto anche alle lavoratrici degli uffici cosa hanno pensato di lavorare queste iscrizioni e ancora non lo sanno, perché giustamente se la circolare dice che la priorità deve essere data a chi arriva prima, quindi chi ha il primo numeretto preso alle 6 del mattino, poi se gli viene detto nello stesso tempo di mettere tra le preferenze anche un nido pubblico, perché probabilmente si prevede che dei nidi pubblici si apriranno. Se quella persona che si è sbrigata per prendere il posto ha preso il posto per il fio nel nido privato e poi domani si vede aprire il nido pubblico in cui il fio andava e fregge il fio che non stava durante l'anno, questo è un problema grave secondo me, perché non può ritornare indietro sui sui passi, quindi oltre andranno anche la beffa. Per questo noi in maniera anche urgente ci siamo sentiti per presentare questa mozione e chiediamo innanzitutto che venga annullata questa circolare che quantomeno ci sembra presentata in tempi sbagliati, non si può pensare di rivoluzionare in tal modo un servizio a 15 giorni, cioè ad oggi ancora i gittori non sanno, i loro figli a lui o in che nido andranno, se ci saranno dei nidi pubblici che saranno aperti. Poi come seconda richiesta chiediamo di impegnare il Presidente della Giunta perché venga garantito il servizio pubblico e di qualità, perché noi crediamo che il servizio svolto negli asili pubblici sia un servizio di alta qualità e che sia svolto da persone formate, preparate, competenti, io non dico che quelli del privato e del convenzionato non lo sono, però magari di questi nidi ne discuteremo qualche altra volta se ne avremo tempo in commissione, perché sapete bene, se conoscete le altre situazioni del territorio, che nel nostro Municipio ci sono pochissimi coordinatori di nidi pubblici, in vario che ne siamo rimasti solo in due e da soli devono coordinare tutti questi nidi e spesso le insegnanti dei nidi si trovano a dover svolgere delle mansioni che non sono neanche le loro, per cui lasciano i nidi per svolgere le mansioni di coordinatore e gli stessi coordinatori dovrebbero effettuare dei controlli periodici nelle strutture private e convenzionate. Queste due persone come fanno a fare tutte queste cose? Come fanno a vedere se funzionano bene le cose nel loro libro e anche a controllare che i nidi privati e convenzionati sia garantito il rapporto bimbo-insegnante, che i lavoratori di nidi privati e convenzionati lavorano al giusto numero delle ore o non lavorano più ore di quelle consentite. Comunque questo è un discorso a parte che è solo dalla mozione ma che va anch'esso considerato. Ed infine, proprio perché in questa questione rientra anche una questione legata alla stabilizzazione dei precari, questa circolare avrà, lo dico infine non perché non siano importanti, ma proprio perché secondo me la priorità è proprio quella prima i bimbi e poi tutti gli altri attori coinvolti nella vicenda. In questa vicenda sono coinvolti anche le insegnanti precari di terza fascia. Noi sappiamo che per il contratto le maestre degli asili non possono stare a contatto con i bimbi dei nidi per più di 10 mesi, per cui il dicesimo mese, che sarebbe il mese di luglio, sono a disposizione. Quindi chi è di ruolo, chi è stabile nel nido non può lavorare il mese di luglio, lo stabilisce il contratto. In quel mese lavorano soprattutto i precari della terza fascia. Con questa circolare, quei precari sicuramente quest'anno non verranno chiamati. Quindi un'altra conseguenza di questa rivoluzione appunto è anche quella di e quindi...